Ovviamente avrà preso spunto dalla nostra trasmissione, possiamo dirlo. Sì, dalla nostra trasmissione, deve aver visto quanto abbiamo fatto notare. Eccolo la Juve Stavia di Massimo Rastelli che sta tanto impressionando per il modo in cui gioca, veramente sorprendente. 1-0 con un gol al trentacinquesimo del primo tempo di De Angelis, eccolo qua. Tra l'altro grandi giocatori, D'Ambrosio, Capparella, Acroganis, De Angelis, veramente una buona squadra. Possiamo rientrare in studio.